Grazie mille, grazie alla Fondazione Zoè per l'invito, sono onorata di essere qui. La mia seconda volta a Vicenza, che mi ha accolto con una manifestazione, tra l'altro anche sportiva, abbastanza caotica e divertente. Sono molto contenta di essere qui per la Settimana del Cervello, che come appunto ha detto è una settimana che si propone di sensibilizzare, di divulgare argomenti relativi al cervello in tutto il mondo, quindi aderiamo a questa Settimana del Cervello anche in Italia e siamo molto contenti di poterne parlare noi ricercatori. Come ha detto Chiara, io mi occupo di astrociti, queste cellule di cui si parla pochissimo, in realtà si sa un po' di più negli ultimi anni, se ne è cominciato a parlare di più, sicuramente nel mondo delle neuroscienze, nel mondo dei noi ricercatori, ora si sanno molte più cose di 10-15 anni fa sugli astrociti rispetto ai neuroni, però a livello divulgativo secondo me manca ancora un po' quell'informazione che noi portiamo al pubblico, quindi sono contentissima che mi abbiate invitato per poter farvi conoscere un pochino questo mondo di queste stelle del cervello di cui si parla ancora un po' poco. Chi è che ha mai sentito parlare di astrocitica? Comincio con una domanda al pubblico, alzi la mano. Ok, ok, è la mia seconda domanda, ecco, fantastico, quindi la mia seconda domanda, ok, grazie, la mia seconda domanda era chi ne ha sentito parlare in questi giorni, quindi, ok, perfetto, ottimo. Quindi, la mia idea per questa conferenza oggi era di partire un po' a livello generale, quindi di spiegarvi un pochino cosa sono queste cellule e dove si trovano, perché sono diverse da neuroni che invece sono cellule del cervello di cui sentiamo parlare un po' di più, e poi di addentrarmi un pochino in quella che è la ricerca che facciamo nel nostro laboratorio, non tanto per, insomma, darvi dei dettagli che poi magari appunto sono un po' inutili ai fini della conferenza, ma proprio per darvi un esempio di che tipo di ricerca si può fare su queste cellule. Quindi, a me poi piace fare anche degli interventi abbastanza interattivi, quindi se vi va di fare domande anche durante, non solo alla fine, sentitevi liberi di alzare la mano e di interrompermi, quindi così che poi magari non perdiamo il filo del discorso, quindi magari dopo altre dieci slide vi siete dimenticati la domanda che avevate prima. Quindi sentitevi liberi di interrompermi, per me non è un problema, anzi mi fa piacere così facciamo partire una discussione. Dall'inizio della mia carriera io mi sono interessata di corteccia cerebrale, e qui di nuovo entriamo in un gergo particolare delle neuroscienze. La corteccia cerebrale si trova nel nostro cervello, ed è, forse qualcuno di voi l'ha sentita nominare, è la parte più esterna del cervello, quindi se noi tagliassimo, come vedete qui nelle slide, il nostro cervello così, in questa direzione, vedremmo questa sezione, non la chiamiamo sezione coronale, e vedremo che la corteccia cerebrale, questo strato, che è quello più esterno e contorna tutta la sezione che vediamo, se tagliassimo così. La corteccia cerebrale perché è così importante, la sentite nominare in patologie o quando andate a conferenze su neuroscienze, perché è la sede dei processi che ci rendono poi umani alla fine, quindi è dove avvengono un sacco di computazioni proprio del nostro cervello, più sofisticate, dove si prende la decisione di alzare questo braccio, viene elaborato in corteccia cerebrale motoria, per esempio, dove vengono integrati tutti i segnali visivi di quello che stiamo guardando adesso, state guardando questa presentazione, e la vostra corteccia visiva si sta attivando perché voi ricevete l'informazione visiva. sentitemi che parlo e c'è la vostra corteccia cerebrale olfattiva, c'è una zona della corteccia che vi permette di elaborare quello che io sto dicendo e quindi capire quello che io sto dicendo, e così via. Quindi ci sono diverse zone della corteccia che sono deputate a diverse funzioni che noi abbiamo e ci permettono di funzionare tutti i giorni. All'interno della corteccia cerebrale, in tutte le zone della corteccia cerebrale, ci sono chiaramente diversi tipi cellulari. Quindi se noi andiamo, come se facessimo uno zoom all'interno della corteccia e andassimo a vedere a livello cellulare cosa c'è, vediamo diversi tipi cellulari. All'inizio, quando c'è l'embrione, quando la corteccia comincia a formarsi, c'è la fase quindi dello sviluppo, ci sono tantissime cellule staminali e come in tutte le altre parti del nostro corpo ci sono cellule staminali che si chiamano cellule staminali nervose e quindi quelle cellule staminali che diventeranno delle cellule del cervello e quindi delle cellule della corteccia cerebrale. Queste cellule staminali possono prendere diverse direzioni e all'inizio dello sviluppo, e questa è una cosa che accade in tutto il mondo animale, cominciano a diventare neuroni e c'è un certo punto dello sviluppo dove questo insieme di cellule staminali, ormai sono stati formati tutti i neuroni che servivano, e cominciano a essere formate queste cellule che si chiamano cellule della glia. Tutte le cellule che non sono neuroni nel nostro cervello vengono chiamate cellule della glia. Questo viene da una nomenclatura abbastanza antica in cui appunto dal greco colla veniva usato come quasi, non si sapeva ancora all'epoca che cosa facessero queste cellule della glia, e si pensava all'inizio che fossero soltanto un collante, qualcosa di meramente strutturale, e fossero lì in mezzo ai neuroni a fare da un supporto strutturale e basta. Da allora è rimasto questo termine glia, da glu, però ora sappiamo che fanno molte più cose, e fra queste cellule della glia ci sono gli astrociti, che è quello di cui parleremo oggi. E gli astrociti si chiamano così per la loro forma, che vi farò vedere tra pochissimo. Dall'inizio della mia carriera io mi sono interessata di cortesia cerebrale, ma mi sono anche interessata di astrociti, quindi da quando io ero studentessa mi aveva affascinato tantissimo questo mondo abbastanza inesplorato di cellule di cui si parlava pochissimo, si sapeva ancora poco, e quindi ho cominciato a studiare gli astrociti già dall'inizio, e ho ottenuto questo interesse poi negli anni e la mia ricerca si è sviluppata proprio su questo tipo cellulare da punti di visti diversi, poi che vi spiegherò un pochino di più nel dettaglio oggi. Che cosa sono gli astrociti? Dove sono? Un pochino già ve l'ho detto, perché vi ho parlato della corteccia cerebrale, e gli astrociti in realtà si trovano in tutto il sistema nervoso centrale, quindi parliamo del cervello e parliamo anche di altre zone, non solo la corteccia, altre zone del cervello, e anche del midollo spinale, quindi tutto il sistema nervoso centrale ha astrociti. Quindi sono abbastanza importanti, come numero, diciamo che ci sono, più o meno a seconda delle zone può cambiare un pochino, tanti astrociti, quanti neuroni nel vostro cervello, quindi per farvi capire l'importanza che hanno. Quindi diciamo che non sono lì solo per la struttura, per fare da colla, ma fanno anche qualcosa di attivo. Che forma hanno? Che secondo me è una delle cose che interessa, attrae un po' di più, si chiamano astrociti perché hanno la forma di astri, di stelle. E sono, se voi vedete qui nella presentazione che avevo messo qui, e se voi vedete dall'inizio, da sinistra, c'è un disegno, questo qui, e questa è una rappresentazione schematica, quindi se voi apriste un articolo scientifico trovereste spesso queste rappresentazioni schematiche di astrociti, ma se andiamo a vedere astrociti veri, quindi colorati con determinate tecniche di colorazione che possiamo usare nel laboratorio, sia in colture, sia in sezioni di cervello vere, hanno veramente questa forma qui, questa forma di stelle. Quindi qui vedete proprio queste stelline, questa per esempio è un'astrocita che abbiamo preso una foto nel nostro laboratorio e questo in un cervello di scimpanzé, per esempio vedete un'astrocita singolo come di rama tutte queste braccine che noi chiamiamo processi e quindi assumono proprio questa forma di stelle. Questa forma e la morfologia in generale, questo è un concetto in biologia che si conserva in tanti ambiti diversi della biologia, la forma ci dice anche qualcosa della funzione spesso, quindi è uno dei motivi per cui siamo tanto anche interessati anche a livello proprio delle neuroscienze alla morfologia di queste cellule, quindi alla forma che hanno queste cellule, a seconda della forma che hanno possono avere anche funzioni diverse. Certo. Il futuro della funzione è planale o è sferica? Sferica, ottima domanda per quello che mi piace avere domande durante la presentazione perché questa è una cosa che per esempio avrei dimenticato di dire e qui vedete una sezione, quindi chiaramente vedete una rappresentazione in 2D ma l'astrocita ha una forma sferica. Il classico astrocita dovete immaginarvelo come una palla al centro che è il corpo cellulare e tanti bracci che vanno come a formare i bracci di una sfera, insomma, quindi è proprio una forma sferica e non dobbiamo immaginarcelo in 3D in realtà e di fatti nei laboratori quello che noi possiamo fare è una ricostruzione in 3D della morfologia degli astrociti. Come lo facciamo? Lo facciamo prendendo delle sezioni di cervello più spesse e prendendo delle acquisizioni al microscopio quindi delle foto al microscopio e seriali di diverse sezioni una dopo l'altra e poi grazie a dei software nel computer noi ricostruiamo proprio tutta la morfologia in 3D di queste cellule quindi questo è quello che si può fare. Chiaramente se sono cervelli più piccoli come cervelli magari di animali roditori quindi più piccolini chiaramente questa cosa è ancora più semplice perché le cellule anche avranno una dimensione un pochino più piccola e a volte si vede che in animali con cervelli più grandi anche la morfologia delle cellule a livello cellulare è più estesa. Quindi grazie ottima domanda questa. Che cosa fanno gli astrociti? Quindi una cosa interessantissima secondo me adesso sappiamo che hanno veramente mille funzioni di cui prima si ignorava l'esistenza hanno sicuramente un supporto strutturale e questo si sapeva già molti molti anni fa e quello che non si sapeva è che hanno delle regolazioni per esempio dell'omeososi del cervello cosa vuol dire? Fanno in modo che prendendo degli ioni rilasciando degli ioni o altre sostanze mantengono un ambiente che sia favorevole ai neuroni per funzionare. Danno un supporto metabolico cosa vuol dire questo che prendono dei nutrienti fanno da ponte fra i vasi sanguigni che portano nutrienti glucosio al cervello e i neuroni quindi i neuroni da soli non saprebbero prendere dai vasi sanguigni il glucosio lo fanno gli astrociti che quando lo dico solitamente le persone mi guardano un po' come non lo sanno fare i neuroni devono saper fare tutto lo fanno tramite gli astrociti quindi gli astrociti prendono questi nutrienti li metabolizzano e li rilasciano in prossimità degli astrociti e li danno ai neuroni scusate e li danno ai neuroni e quindi si dice proprio che nella barriera ematoencefalica che è questa barriera fra i vasi sanguigni e tutte le cellule del cervello del sistema nervoso centrale e gli astrociti sono quelli che compongono questa barriera quindi con queste loro braccine si appoggiano ai vasi sanguigni e fanno in modo che passino anche solo le sostanze che devono passare quindi non solo le cellule dei vasi sanguigni sono molto strette fra di loro ma anche gli astrociti fanno un po' da controllatori controllori di quello che passa e non passa e un'altra cosa importantissima che infatti ho messo proprio un disegnetto qui oh no sbagliato e un disegnetto qui apposta controllano le sinapsi ora chi è che sa che cosa sono le sinapsi alzata di mano così vediamo bravissimi vedo preparatissimi eh sì è già fatta la domanda no volevo mettere il microfono se si sentiva la domanda ok no la domanda era c'era un'altra domanda oltre a quella del signore no è già fatta per la prossima ottimo grazie allora le sinapsi faccio un piccolo recap sono queste piccole fessure che mettono in comunicazione il neurone e l'altro ma vi vedo già ferrati sull'argomento e magari quello che non sapevate finora era che le sinapsi funzionano grazie agli astrociti quindi da sole i neuroni non avrebbero le sinapsi intanto non formerebbero sinapsi perché gli astrociti durante lo sviluppo fanno in modo che queste sinapsi queste connessioni si formino nel modo corretto quindi cosa succede nello sviluppo si formano prima i neuroni quindi cellule staminali danno origine ai neuroni i neuroni vanno a popolare tutte le zone del sistema nervoso dove servono i neuroni cominciano a tirare fuori i loro assoni i loro prolungamenti e poi arrivano gli astrociti i neuroni dicono agli astrociti di formarsi dicono alle cellule staminali di formare astrociti arrivano gli astrociti nel loro posto e lì aiutano localmente i neuroni a connettersi fra di loro quindi ci sono proprio tutta una branca di neuroscienze che studia la formazione delle sinapsi e non si può parlare di sinapsi a giorno d'oggi senza parlare di astrociti perché sono quelli che regolano proprio la formazione delle sinapsi questo succede durante lo sviluppo durante poi la fase dell'adulto e le sinapsi funzionano grazie alla presenza degli astrociti quindi in questo schema qui vedete che per esempio possono dare un braccino va ad avvolgere proprio la sinapsi e lì fanno un lavoro importantissimo di prendere delle molecole che si chiamano neurotrasmettitori che sono dei segnali chimici che passano proprio delle molecole fisiche che passano da un neurone all'altro e quando ce n'è troppe loro le prendono e ripuliscono la sinapsi così che sia sempre attiva e possa sempre funzionare al meglio e poi le rimetabolizzano quindi le rimetabolizzano le ridando poi ai neuroni quindi diciamo che fanno proprio questo lavoro di aiutare la connessione fra un neurone e l'altro quindi se non ci fossero gli astrociti non ci sarebbe neanche il passaggio del segnale tramite le sinapsi da un neurone all'altro e questo è quello che fanno gli astrociti in generale una delle loro proprietà quindi a seconda del tipo di astrociti che troviamo può essere in una zona particolare del cervello o no ma tutte le zone del cervello hanno degli astrociti che sono deputati a fare questo e quindi immaginate che quando non funzionano poi ci sono delle patologie specifiche che hanno anche un malfunzionamento per esempio nelle sinapsi questa è una delle cose che può succedere quando gli astrociti non funzionano e qui veniamo alla domanda centrale di cui ci occupiamo nel nostro laboratorio noi sappiamo che gli astrociti quindi sono importantissimi questo non lo dico io lo dicono tanti scienziati che lavorano sugli astrociti a livello mondiale la mia domanda è quella che noi cerchiamo di studiare nel nostro laboratorio la nostra domanda principale è se e come gli astrociti possono contribuire alla complessità del cervello che noi vediamo nell'uomo per esempio o nei primati più in generale e quindi tanti anni nell'evoluzione negli studi sull'evoluzione ci si è focalizzati sull'importanza dei neuroni su come cambiano i neuroni su come cambiano le connessioni nel nostro cervello rispetto al cervello non lo so di una mucca per esempio ma pochissimi invece si sono focalizzati su come cambiano gli astrociti e la nostra domanda nasce dal fatto che se gli astrociti regolano tantissimi dei processi neuronali e ne permettono il funzionamento è legittimo supporre o ipotizzare che ci sia anche una differenza negli astrociti a livello del cervello dell'uomo rispetto al cervello di altri mammiferi quindi a questo punto e qui cominciamo ad entrarci un pochino in quella che è la ricerca che facciamo noi nel nostro laboratorio quindi comincerò a entrare un pochino più nello specifico ma per favore di nuovo interrompetemi se avete curiosità o domande o se non mi spiego bene in alcuni punti vi ho detto che esistono diversi tipi di astrociti così come esistono diversi tipi di neuroni allora magari avete sentito nominare neuroni motori neuroni sensoriali neuroni che fanno cose diverse a seconda della funzione che devono aiutare a fare e allo stesso modo esiste una eteriogenità della popolazione degli astrociti nel nostro cervello e si parla di eteriogenità in realtà di astrociti anche qui da pochi anni da pochi anni si è cominciato a capire che anche gli astrociti hanno forme diverse e hanno funzioni diverse a seconda di dove si trovino nel cervello e non solo ci sono astrociti diversi all'interno per esempio del mio cervello ma si sono anche astrociti diversi se guardiamo la stessa zona del cervello in specie diverse quindi noi ci occupiamo di entrambe queste cose noi compariamo nel nostro laboratorio astrociti diversi all'interno di zone diverse del cervello ma anche soprattutto astrociti diversi in specie diverse per cercare di capire appunto di rispondere alla domanda iniziale che avevo posto come possono gli astrociti aiutare la formazione della complessità del nostro cervello all'interno di una varietà enorme di cervelli dei mammiferi ci sono due tipi di astrociti in particolari quindi non entro proprio nel merito dei nomi specifici si chiamano protoplasmici fibrosi questi sono due tipi di astrociti che io solitamente presento alle conferenze proprio del campo di neuroscienze attirando l'attenzione dei ricercatori in neuroscienze che solitamente conoscono questi due tipi di astrociti e anche chi non lavora sugli astrociti conosce questi due tipi di astrociti perché sono presenti in tutti i mammiferi e sono quelli che sono stati studiati dall'inizio cioè quando si è cominciato a capire l'importanza degli astrociti ci sono focalizzati centinaia e centinaia di studi su questi due tipi di astrociti e non vi serve ricordarvi il nome di questi due tipi ma solo che sono presenti in tutti i mammiferi qualche anno fa quando ho cominciato ad entrarmi di più nello studio degli astrociti nell'evoluzione mi sono accorta che c'erano degli studi pochissimi studi su un tipo particolare di astrociti che era presente o almeno si diceva che fosse presente solo nei primati e quindi lì mi si è accesa una lampadina e ho detto ma io non solo io ma con i miei collaboratori di qualche anno fa abbiamo pensato ma quindi se c'è un tipo particolare di astrociti che è stato visto solo nei primati vuoi vedere che è proprio quello che contribuisce a formare la complessità del cervello dei primati insieme poi chiaramente ai neuroni ci sono anche neuroni specifici nei primati e questi astrociti sono diventati un po' il mio pallino da quel momento da quando ho cominciato a leggere questi lavori e immaginate che mentre c'erano magari centinaia ordine di centinaia di lavori sugli altri tipi di astrociti presenti tutti i mammiferi su questi astrociti che si chiamano interlaminari ora vi spiego perché c'erano qualcosa come 10-20 lavori che nel mondo scientifico è pochissimo vuol dire che veramente erano stati studiati da un paio di gruppi in tutto il mondo e poi erano stati dimenticati per qualcosa come 10-15 anni e nessuno ci aveva mai più fatto ricerche e questo un po' un po' va perché un po' a volte nella scienza anche si seguono delle tendenze come in tutto e un po' perché effettivamente forse non c'era modo di studiarli magari nell'organismo modello che si usa di più che è il topo e perché si diceva che fossero presenti solo nei primati e quindi mi hanno mi hanno intrigato molto e da allora abbiamo cominciato a studiarli questi astrociti interlaminari ora ve li faccio vedere una cosa che non vi ho detto sulla corteccia cerebrale è che ha degli strati nei mammiferi ne ha 6 quindi di nuovo torniamo alla nostra sezione che abbiamo fatto nel nostro cervello se potessimo guardarla abbiamo la corteccia che è lo strato più esterno se noi potessimo zoomare nella corteccia vedremmo proprio degli strati e ne vedremmo 6 e questi strati sono riconoscibili perché hanno dei pattern proprio di tipi cellulari che già visivamente se noi li corollassimo con delle tecniche per vedere anche solo i corpi cellulari vedremmo che hanno proprio dei pattern per cui riconosciamo proprio degli strati io penso che qui si possa vedere questi sono colorazioni fatte veramente forse 100 anni fa quindi si potevano già fare così vedrete proprio che si riescono a riconoscere degli strati specifici con delle composizioni particolari per esempio qui vedrete queste cellule triangonali qui sono neuroni e vedrete che sono in questo stato qui quelli più grossi anche in questo stato qui quindi nel terzo e nel quinto strato a seconda degli strati ci sono chiaramente delle funzioni diverse ora si sa tanto di più della corteccia quindi si sa che a seconda di che strato stiamo guardando ci si organizza delle funzioni diverse questo è un modo che ha avuto l'evoluzione di organizzare le cellule i vari tipi cellulari in maniera molto molto organizzata quindi in tutti i nostri cervelli noi abbiamo esattamente gli stessi strati gli stessi sei strati con chiaramente ci sarà un numero leggermente diverso ma il pattern sarà esattamente lo stesso in tutti i cervelli delle persone presenti in questa stanza questo è un commento a margine è una cosa che io trovo molto interessante e affascinante dell'anatomia in generale che quindi ci sono delle cose che nell'evoluzione si sono mantenute si sono trovate come cose che funzionano per esempio nel cervello umano e si sono mantenute e l'anatomia ci permette di trovare dei pattern che sono mantenuti in tutti poi gli individui con delle differenze chiaramente individuali ma ci sono delle cose di base che non cambiano è una di queste questi sei strati della corteccia e chiaramente qui per esempio per farvi vedere gli strati ci sono solo colorazioni di neuroni ma immaginatevi che gli astrociti popolano tutti gli strati della corteccia sono necessari ovunque perché dovunque ci siano sinapsi sono necessari questi astrociti e normalmente gli astrociti che vi dicevo sono presenti in tutti i mammiferi e quindi non solo nei primati non solo nell'uomo ma anche in altri mammiferi sono presenti e quelli più studiati sono presenti negli strati diciamo più profondi o comunque dal secondo strato al sesto questi astrociti interlaminari che vi dicevo hanno catturato la mia attenzione perché si pensava fossero presenti solo nei primati hanno il corpo cellulare nello strato più esterno quindi hanno il corpo cellulare qui attaccato proprio alla parte più esterna quindi attaccato ai vasi sanguigni alla pia mater quindi alle membrane che ricoprono il cervello hanno questo corpo cellulare quindi nello strato 1 si chiama nello strato più marginale della corteccia e questa forma molto particolare quindi riconnettendomi alla domanda che mi era stata fatta prima ma gli astrociti hanno una forma sferica? Sì quelli classici quelli più studiati hanno una forma sferica questi hanno una forma quasi di piramide invertita quindi hanno praticamente un corpo cellulare quasi attaccato alla pia quindi alla parte più marginale del cervello e hanno questi braccia questi prolungamenti che scendono in maniera perpendicolare alla parte marginale del cervello e che si addentrano negli strati più profondi della corteccia e questa cosa è una cosa che anche quando la racconto a conferenze del campo è una cosa che attira molto e interessa molto perché perché sono gli unici astrociti che hanno questa configurazione morfologica e solitamente questa è una cosa che noi vediamo nei neuroni cioè nei neuroni noi vediamo un neurone che ha un corpo cellulare in uno strato e manda l'assone questo prolungamento lungo 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 che va a connettere un altro neurone in una zona completamente distante da dove si trova il corpo cellulare del neurone e addirittura noi abbiamo dei neuroni che mandano degli assoni che arrivano fino alla punta del piede per dire quindi hanno veramente delle volte degli assoni molto molto lunghi e quindi gli astrociti invece solitamente fino a pochi anni fa si pensava che potessero avere questa configurazione sferica e potessero avere un diciamo un dominio di interazioni quindi delle interazioni soltanto con le cellule che fossero lì intorno nelle immediate vicinanze e questi sono gli unici astrociti che invece attraversano più strati per quello si chiamano interlaminari perché in gergo gli strati si chiamano anche lamine e quindi questi astrociti sono stati nominati interlaminari che attraversano più strati e sono gli unici astrociti che riescono a farli e in questo somigliano un pochino di più ai neuroni morfologicamente rispetto a classica forma stellata quindi hanno una forma diciamo più polarizzata quindi corpo cellulare da un lato e braccine che vanno specificatamente in una direzione in particolare e qui ci sono delle rappresentazioni per esempio questa è un disegno come vedete venivano osservati al microscopio già nel 1893 poi nessuno sapeva cosa fossero però intanto li osservavano questi sono disegni Ramonica Hall forse l'avete sentito nominare in altre conferenze di neuroscienze era uno dei primi neuroscienziati nel 1904 e questi erano i disegni meravigliosi che faceva lui e questa è una sì ho riportato una foto di uno dei disegni originali si trova anche online cosa facevano all'epoca non avevano tutti i software di acquisizione microscopio che abbiamo adesso e i scienziati si mettevano al microscopio e disegnavano quello che vedevano che trovo una cosa affascinantissima fra l'altro forse mi sarebbe piaciuto all'epoca fare una cosa del genere e quindi abbiamo tantissimi disegni molto accurati di quello che gli scienziati vedevano all'epoca che poi quello che noi stiamo osservando adesso guardando lì al microscopio di fatti e quindi questo è molto interessante questa invece è una foto presa negli anni 90 al microscopio in bianco e nero infatti e ora vi mostrerò qualche foto invece a colore che abbiamo preso nel nostro laboratorio degli stessi astrociti quindi chiaramente immaginatevi questi sono disegni questa è una foto ma comunque si vede corpo cellulare più esterno e poi tutte queste braccine di questi astrociti che si addentrano dentro la corteccia nessuno sa ancora la funzione di questi astrociti vi do questa anticipazione e la domanda di partenza che noi ci siamo posti su questi astrociti interlaminari è stata molto semplice come qualsiasi cosa che si fa all'inizio di un progetto ci siamo chiesti ma è vero quello che si sa finora questa è una cosa che in scienza si fa spesso tutto è vero fino a prova contraria si dice quindi ci sono delle cose che un po' a volte sembrano contraddittorie e ci siamo chiesti ma sono davvero specifici dei primati e a volte il fatto che alcune ricerche siano state fatte in alcuni contesti non esclude che magari ci siano in altre specie quindi noi avevamo trovato queste ricerche in cui si diceva li vediamo nei primati e non li vediamo in altre specie però non mostravano poi altre specie e quindi ci siamo chiesti ma sono davvero specifici nei primati perché se fossero specifici nei primati sarebbe già una grande indicazione del fatto che hanno magari delle funzioni specifiche nel cervello dell'uomo e quindi abbiamo cominciato anni fa questo studio comparativo in cui abbiamo fatto una cosa molto semplice abbiamo raccolto quanti più cervelli possibili da animali diversi e come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto in maniera opportunistica quando animali morivano negli zoo tramite collaboratori insomma una rete di collaboratori abbastanza vasta un po' in tutto il mondo e ci siamo fatti mandare questi pezzetti di cervelli da specie diverse e quindi questo non ve lo metto per spaventarvi non leggerò tutte queste specie ma era per darvi un'idea del numero di specie qui sono 46 specie diverse di mammiferi che abbiamo raccolto da ordini molto diversi quindi abbiamo per esempio non lo so abbiamo preso cervelli di elefanti di pipistrelli di carnivori diversi quindi tigri leoni gatti cervelli di primati tanti tipi di primati diversi quindi non solo l'uomo ma anche diversi tipi di scimme diversi tipi di scimme del vecchio mondo del nuovo mondo oppure lemuri che sono i primati più primitivi e poi chiaramente anche il titolo è dai marsupiali quindi abbiamo preso anche i cervelli di marsupiali e questo è un albero evolutivo quindi l'uomo è qui e marsupiale è qui su e dal numero di ramazioni diverse potete vedere quanto è lontano evolutivamente marsupiale dall'uomo e quindi abbiamo cercato di prendere quante più specie è possibile le abbiamo sezionati questi cervelli e siamo andati a vedere nello strato 1 quello più marginale è vero che questi astrociti interlaminari sono solo nel cervello dei primati e non negli altri mammiferi non è vero e quindi alla prima cosa che ci siamo questo è un esempio semplicemente ecco una foto a colori volevo farvi vedere di questi astrociti questo è il corpo cellulare in blu e in verde è una proteina che esprimono questi astrociti quindi possiamo vedere immaginatevi che in blu sono altri tipi cellulari qui ma quelli che esprimono che fanno vedere anche la colorazione nel verde sono questi astrociti interlaminari e quindi noi li possiamo colorare e possiamo vedere queste braccine senza avere la confusione di tutti gli altri processi che dovete immaginarvi essere presenti nel cervello dai neuroni qui vediamo solo gli astrociti e li vediamo allo strato 1 e qui vanno giù 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 nella corteccia negli altri strati e quindi prima scoperta che avevamo fatto qualche anno fa tutti i mammiferi hanno almeno un certo tipo di questi astrociti interlaminari quindi abbiamo un pochino scardinato la convinzione che in realtà fossero presenti solo nei primati e voi adesso starete pensando ma allora quindi perché ne stiamo parlando perché sono importanti nei primati sono importanti comunque nei primati ora ci arriviamo allora intanto qui vi faccio vedere come sono presenti per esempio nel topo hanno degli gli astrociti interlaminari alcune specie come il topo più piccoli e più semplici morfologicamente altri specie come questo animale qui di cui non so forse neanche il nome in italiano il nome scientifico è Procavia Capensis è un animale evolutivamente molto lontano dai primati ma anche questo animale qui ha questi astrociti interlaminari con dei processi che riescono ad arrivare anche ad attraversare lo strato 1 quindi ad arrivare nello strato 2 hanno processi interlaminari tipici invece nel topo per esempio restano confinati nello strato 1 quindi li abbiamo chiamati rudimentali diciamo che non sono veri e propri interlaminari e sì qui era per farvi vedere questo animale qui è praticamente molto lontano dall'uomo e quindi ci siamo chiesti ma allora cos'hanno di speciale gli astrociti interlaminari nei primati c'è davvero qualcosa di speciale come mai i gruppi che li hanno studiati in precedenza 10-15 anni fa li hanno guardati soprattutto nei primati e in realtà abbiamo trovato che sì hanno qualcosa di particolare nei primati che è proprio la morfologia più complessa e anche sono molto più numerosi che negli altri mammiferi quindi quando abbiamo comparato e qui di nuovo è un esempio di cosa facciamo nei laboratori cosa abbiamo fatto prima siamo andati a contarli proprio nei vari cervelli abbiamo visto che se guardiamo un cervello di una scimmia o un cervello umano sono molto più numerosi questi astrociti interlaminari rispetto a un cervello di topo o di giraffa o di elefante e soprattutto una cosa molto affascinante vi parlavo di morfologia di come la morfologia possa essere anche un'indicazione della funzione e sono morfologicamente molto più complessi nei primati rispetto alle altri mammiferi qui di nuovo sì domanda questa è un'ottima domanda ed è una cosa che stiamo cercando di valutare adesso quindi non ti posso dare una risposta scientificamente corretta dai dati preliminari che abbiamo sì che dovrebbe essere proporzionale in realtà quello che però osserviamo più forte è che proprio la complessità morfologica va di pari passo con la numerosità dei neuroni più che la numerosità stessa degli astrociti cioè mi spiego meglio il numero in alcune specie di primati può restare abbastanza invariato ma quello che veramente correla con che vediamo correlare a livello con modelli matematici che stiamo provando in laboratorio quello che vediamo correlare con la numerosità dei neuroni nei primati è la complessità morfologica cioè alcuni indici numerici di complessità morfologica abbiamo dei modi per dare alla morfologia dei numeri perché altrimenti visivamente non potremmo insomma poi fare delle analisi matematiche e l'indice di complessità è corrella molto bene con la numerosità dei neuroni piccola curiosità al riguardo penso che tu mi abbia fatto questa domanda per questo motivo i primati riescono a impacchettare più neuroni nel cervello rispetto ad altri mammiferi e questa è una cosa che è stata studiata anche questa relativamente di recente perché non si sapeva si davano numeri un po' a caso quando si diceva il numero dei neuroni nel cervello in realtà una scienziata brasiliana Susana Ercolano ha andato a contare il numero preciso di neuroni nel cervello di tantissime specie e con dei modelli matematici hanno visto che in realtà come primati noi riusciamo a mettere nello stesso non solo abbiamo dei cervelli più grandi ma magari se pensate a un cervello di un elefante o un cervello di una balena è più grande il cervello dell'uomo quindi non è tanto quanto è grande il cervello ma quanti neuroni ci sono e la nostra ipotesi è che per aiutare questo numero di neuroni ci sono più sinapsi e ci siano degli astrociti che sono morfologicamente più complessi vuol dire che hanno più braccia per aiutare una computazione dei livelli di computazione più elevati e quindi un'ottima domanda questa prego anche questi se ho capito bene questi astrociti interplanari interlaminari interlaminari aiutano più sinapsi esattamente quando sono più complessi morfologicamente e questa è la nostra ipotesi questa è esattamente la nostra ipotesi sono contentissima che è un'ipotesi che ha senso perché ci è arrivato avendo sentito soltanto dieci minuti di presentazione quindi sì assolutamente questa è la nostra ipotesi la nostra ipotesi quello che sappiamo al momento è che contattano le sinapsi come gli altri astrociti e quindi la nostra ipotesi è quello che stiamo cercando di investigare e che contattino e favoriscano un numero maggiore di sinapsi e che mettano in correlazione in contatto anche più layers diversi e quindi forniscano tipo un hub di insomma di mettere sì esatto più processi funzionali diversi esattamente sì un'altra domanda qui volevo dire gli astrociti interlaminari devono essere in evoluzione o diversi a seconda dell'età perché siccome la corteccia cresce al quadrato il cervello cresce al cubo è evidente che il numero di di attrociti interlaminari sulla superficie si trovano ad avere 3 4 5 6 volte più di quello che dovevano fare di quello che dovevano fare prima ecco e dopo ci deve essere anche una qualità diversa mi spiego subito chiaramente lei è più intelligente di me ma io vedo che anche mia moglie anche mia moglie non andiamo tanto in cerca anche mia moglie è più intelligente di me tiene lei la potabilità di casa eccetera però voi avete il cervello più piccolo come si spiega questa roba qua che vuol dire che avete interlaminari diversi cose e anche la struttura del cervello fantastica allora ha toccato due punti molto esatto ha toccato due punti anzi forse più di due punti molto interessanti allora intanto il punto dello sviluppo anzi mettiamola in tre punti interessanti il punto dello sviluppo di come cambiano durante lo sviluppo la relazione con sesso maschile o femminile che è un altro fra l'altro un ambito in particolare dell'eneroscienza su cui si lavora tanto al momento e anche l'intelligenza il concetto di intelligenza quindi ora non so quanto tempo abbiamo ancora dieci minuti no rispondo brevemente allora non ho qui delle immagini per far vedere come cambiano durante lo sviluppo perché assolutamente è vero che se noi prendiamo un cervello di un bambino e un cervello di un adulto questi astrociti interlaminari crescendo questi processi hanno bisogno di un loro tempo per crescerli e anche per maturare durante lo sviluppo noi sappiamo che c'è un momento perché abbiamo fatto anche uno studio sullo sviluppo e abbiamo preso cervelli a più età sia insomma umani che anche di altri primati e abbiamo visto che nei primi anni continuano a crescere c'è un momento in cui il numero si ferma nel senso che dopo un po' non proliferano più che è un'altra cosa anche strana perché gli astrociti in generale possono proliferare un po' di più dei neuroni i neuroni sappiamo che non proliferano una volta si sono formati proliferano vuol dire si dividono diventano di più quello che però cresce e va crescendo è il processi quindi abbiamo visto che per esempio intorno all'adolescenza che è un momento in cui ci si formano anche più sinapsi o c'è un momento di rimodellazione delle sinapsi e vediamo anche che continuano a crescere questi processi continuano a cambiare quindi per esempio lo studio che abbiamo fatto noi per comparare dei mammiferi abbiamo preso diciamo più o meno per quanto possibile età comparabili cioè abbiamo preso adulti per esempio per comparare la morfologia e quindi per essere più sicuri possibile che la morfologia che vedessimo complessa nei primati fosse dovuta alla specie e non all'età per esempio perché chiaramente se noi compariamo un uomo adulto rispetto a un roditore appena nato allora chiaramente ci si può pensare ma forse perché non ha avuto il tempo di svilupparsi e invece no siamo abbastanza sicuri da questo e la seconda cosa che lei diceva vado al terzo punto quello dell'intelligenza perché è una cosa che mi preme tanto dire ogni animale e forse anche ogni essere umano è intelligente nella maniera migliore per adattarsi all'ambiente allora è una cosa in cui io correggo sempre i miei studenti quando dicono ha funzioni cognitive e l'uomo ha funzioni cognitive più elevate oppure più intelligente di altri animali no il pesce è perfettamente intelligente vive benissimo nel suo ambiente si è adattato ha fatto tanti anni di evoluzione quanti li abbiamo fatti noi e i pesci sono vivi adesso sono ugualmente intelligenti all'uomo semplicemente si adattano a un ambiente diverso dal nostro noi non sapremmo vivere sott'acqua quindi saremo in quel caso almeno intelligenti del pesce quindi quando si parla di intelligenza infatti mi piace parlare di complessità più che di intelligenza perché quella è una cosa oggettiva su cui non possiamo che non possiamo negare quindi chiaramente l'uomo sa fare delle cose che magari una mucca o un pesce non sanno fare allora in quel caso sa fare delle cose più complesse allora magari non so sua moglie sa fare delle cose più complesse non so parlava in maniera scherzosa no quindi in realtà la dimensione non conta in questo quindi se noi guardiamo la mucca ha un cervello più grande magari no la mucca magari no ha un cervello ancora più pic se vediamo il cervello ma magari non lo so l'elefante ha un cervello più grande del nostro però magari non sa risolvere equazioni quindi a seconda è quello che dicevo appunto prima a seconda del numero di cellule o della complessità morfologica si si poi determina quali sono le le competenze di quel cervello e di quell'individuo e chiudo rispondendo all'ultima cosa sulla perché ha toccato secondo me un campo importante che è quello delle differenze di sesso dobbiamo sempre tenere conto della parte ormonale quando facciamo le nostre ricerche quindi è una cosa che dieci anni fa non si poneva troppo attenzione quindi anche quando si facevano ricerche non si guardava che è il sesso dell'animale o del cervello e invece adesso c'è proprio tutto un campo che si propone di investigare come cambiano determinati tipi cellulari e funzioni di determinati tipi cellulari a seconda se stiamo parlando di uomo o donna se ne sa ancora pochissimo non è il mio campo quindi non mi permetto di rispondere in quel senso però questa è una cosa molto interessante secondo me va sempre tenuta sotto controllo quindi vado avanti scusi un attimo c'è ancora c'è anche per gli astrociti la potatura che c'è nei neuroni allora seconda domanda è ancora vero che il peso specifico del cervello femminile è maggiore del peso specifico del cervello maschile sulla seconda non lo so penso che dipenda anche dalla persona da persona a persona perché questo me l'avevano insegnato all'università ma parla di tanti allora io credo che dipenda da persona a persona nel senso che non so i studi che erano stati fatti all'epoca non so intanto la numerosità del campione che avevano preso perché c'è appunto tanta differenza anche da persona a persona e il cervello magari la grandezza del cervello dipende anche dall'individuo nel senso una persona non lo so più minuta avrà un cervello più piccolo ma perché non perché funzioni peggio semplicemente perché deve sottostare a delle regole steriche proprio di fisiche morfologiche che deve rientrare in quella conformazione ossea e quindi in realtà il fatto che sia non lo so più piccolo nelle donne in alcune donne poi magari in altre donne no rispetto ad alcuni uomini è semplicemente una questione di statura e quindi sta a delle regole che sono regole proprio fisiche però c'è tutto un campo che studia quanto dovrebbe essere per quella peso corporeo quindi no non so adesso questa questione del peso specifico non so risponderle mi do come interopero la sua prima domanda se fanno anche loro sottostanno alla potatura come i neuroni allora non è una cosa di cui si sa tanto quello che posso dire è che cambiano morfologia molto più sono molto più plastici come cellule non sono questi interlaminari ma in generale gli astrociti sono molto più plastici dei neuroni nel senso che possono per esempio nel campo di alcune nel caso di alcune patologie possono riattivarsi nell'infiammazione nel cervello per esempio possono riattivarsi e cominciare a dividersi e proliferare anche nell'adulto molto facilmente nel caso per esempio dei tumori cerebrali abbiamo il glioblastoma che è uno dei tumori più mortali per l'uomo e in quel caso è dovuto alla proliferazione di cellule e della glia non di neuroni quindi sono cellule della glia che impazziscono per qualche motivo e cominciano a proliferare invece nel caso dell'infiammazione magari invece è una risposta buona degli astrociti per cui cambiano proprio morfologie in quel caso hanno più processi quindi se li guardassimo al microscopio vedremo che hanno più processi perché devono rispondere a determinate cose quindi in questo senso non si parla proprio di potatura come si parla per le sinapsi ma si parla di rimodellazione riarrangiamenti morfologici che avvengono in seguito a determinate cose che succedono nel cervello quindi sì ottima domanda tutte domande bellissime sono contentissima quindi sì abbiamo parlato appunto della regolazione delle sinapsi la nostra ipotesi che formino appunto un network più complesso che aiutino a formare un network più complesso questi astrociti interlaminari e abbiamo appena toccato anche quindi chiudo così perché siamo arrivati allora abbiamo toccato anche la prospettiva di quanto sia importante studiare gli astrociti nelle patologie adesso c'è tutta una branca delle neuroscienze che studia proprio astrociti cellule della glia non neuronali come contribuiscono a determinate patologie quindi si è studiato tanto 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 i neuroni nelle patologie del sistema nervoso centrale e ora si sta cominciando a studiare anche cosa fanno cosa facciano gli astrociti nelle patologie e con questo io vi ringrazio e sono pronta a rispondere a tutte le altre domande che avete ringrazio anche il mio gruppo che ho messo delle foto simpatiche qui grazie ma voi riuscite a studiare gli astrociti solo nei cervelli cadaveri o anche nei cervelli vivi con risonanza magnetica o come? ottima domanda allora una parte del laboratorio studiamo gli astrociti nei cervelli appunto post mortem un'altra parte noi li studiamo in cultura perché li possiamo prendere da ora ci sono queste cellule che si chiamano staminali pluripotenti indotte e sono cellule che sono derivate da altre da differenziamento per esempio di cellule della pelle quindi si prelevano cellule della pelle si può fare da specie diverse quindi non solo uomo ma anche specie diverse si dedifferenziano a cellule staminali e adesso abbiamo dei protocolli che ci permettono di differenziare di fare diventare astrociti e quindi possiamo studiare astrociti vivi di specie diverse in cultura e in quel caso possiamo studiarne delle funzioni possiamo metterli in co-cultura si dice con neuroni e quindi studiare per esempio come interferiscono con le sinapsi in vitro e questa è una cosa che stiamo facendo c'è un'altra domanda lì grazie volevo sapere se il nostro modo il nostro comportamento il nostro modo di vita può influire sulla proliferazione di questi di queste cellule e l'ambiente quanto può influire sul benessere del nostro cervello allora sicuramente uno studio di vita salutare influisce sul benessere del cervello ci sono diversi studi a riguardo non ci sono studi su come influisce proprio specificatamente su queste cellule quindi su questo non le la mia il mio intuito mi dice che sicuramente ci sarà un effetto così come c'è un effetto che vediamo in alcuni ambienti patologici per lo stesso motivo ci può essere un effetto benefico insomma da uno studio di vita salutare appunto dall'ambiente l'ambiente in ogni caso impatta il cervello quindi come impatta i neuroni di cui si sa tanto di più impatterà anche gli astrociti ma ci sono veramente pochi se non ne conosco gli studi specificatamente come l'ambiente impatti gli astrociti grazie sarebbe molto interessante a me se non ci sono altre domande è rimasta una curiosità un aneddoto ieri la professoressa Matteoli ci ha raccontato che è stato a lungo studiato il cervello di Einstein e non ci sono differenze sul peso sulla dimensione però quello che hanno notato è che ha un numero molto più elevato rispetto alla media di astrociti però ci ha lasciato solo con questa informazione quindi non ne ricaviamo qualcosa di più che forse lei ci può dare è molto divertente questa cosa perché sì il cervello di Einstein è stato sezionato per lungo e per largo e in realtà ci sono un po' di mi piacerebbe dire che appunto appoggiarmi a questa cosa e usarla come come prova per l'importanza degli astrociti sarebbe bello quello che ci sono molte controversie su questi studi fatti sul cervello di Einstein come anche sicuramente Michela avrà detto perché in realtà ci sono delle controversie su come è tutto conservato ma a parte tutte queste controversie insomma per cui non si sa veramente poi magari di questi studi come sono stati fatti poi sono stati fatti anche molti anni fa quindi con alcuni studi con delle tecniche un po' appunto non con le stesse tecnologie che abbiamo adesso ma in generale non ci fidiamo di studi fatti su un campione unico quindi l'unico vero motivo per cui mi sento di essere scettica è che già fare studi sul cervello umano è difficile perché abbiamo tante differenze individuali persona per persona trarre una conclusione da un solo campione in ogni caso in scienza è sbagliato secondo me quindi mi sento di sovrassedere su questa cosa purtroppo grazie c'è un'ultima domanda si può fare c'è anche una domanda qui poi dopo io volevo sapere quali sono le implicazioni cliniche nella patologia neurologica umana di questa ricerca ottima domanda ottima domanda sì sì certo allora intanto ci sono proprio delle patologie che si chiamano sinaptopatie dove le sinapsi vengono formate male o funzionano male è un grande gruppo di patologie insomma per cui per esempio si potrebbe andare a intervenire direttamente sugli astrociti ci sono delle patologie dello sviluppo noi una parte del nostro laboratorio cerca di capire anche come impattano lo sviluppo dei neuroni delle sinapsi e ci sono patologie cioè disordini dello sviluppo dove praticamente si potrebbe pensare in un futuro di appunto dare un po' più attenzione agli astrociti rispetto ai neuroni perché tutte le cose che si sono provate sui neuroni non hanno funzionato allora magari si va a vedere se sono gli astrociti che non funzionano bene in alcune patologie dello sviluppo del sistema nervoso quindi questi sono i due ambiti in cui io vedo di più la nostra ricerca noi facciamo più ricerca di base nel nostro laboratorio ma sicuramente l'occhio è sempre la ricerca traslazionale quindi clinica in futuro perché poi dalla ricerca di base si parte la conoscenza per poi essere tradotta alla ricerca clinica quindi questi sono i due ambiti in cui io vedo possibili applicazioni grazie è una domanda è semplice nel senso che mi pare di aver capito che nel processo dai neuroni alle sinapsi gli astrociti sono influenzati anche dalle cellule staminali quando noi prendiamo degli antistaminici perché abbiamo il raffreddore perché abbiamo rischiamo di danneggiare il cervello allora perché mi chiede questo da quale da quale non voglio dire da quale convinzione nasce questa domanda se posso chiedere no no nessuna convinzione è domanda pura mi pare di aver capito che c'è un collegamento con le cellule staminali dopo se anche uno associa a un antistaminico una sonnolenza e quindi diciamo che gli antistaminici anche se la parola può trarre un inganno sono contro l'istamina che non c'entra niente con le cellule staminali ora ho capito la domanda da dove nasce quindi praticamente sì una molecola che viene prodotta quando c'è una reazione allergica quindi no gli antistaminici no non vanno a intaccare le cellule staminali per fortuna quindi anche le nostre riserve di cellule staminali nel cervello sono al sicuro se prendiamo antistaminici anzi prendeteli perché se servono prendeteli sì